Ciao, dopo un allenamento di 9 km di nuoto al mare, solo col tri-race, riesco a tornare a casa senza dover udare le spalle, perciò posso esaurire completamente nel nuoto e torno con calma a casa. Faccio vedere un pezzettino del tragitto al porto. Ciao! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti.